Sotto rimane il sole picchia lì forte, non ti ho detto questa casa in cartichese. L'Italia sa il lavoro. Allora qui abbiamo preparato la ronda e qui ci sono 10 ore. Allora abbiamo fatto il musso perché l'acqua si scocasse quasi subito e quando non riesce mica troppo non arrivo. A Ronda è la deglia più importante, non è questa che riposa tutto il detto. Ma non sui unghie, una vetra pronta a piazzare ci vuole dare qualche martellata. Qui c'è un mestiere di taglio. Qui c'è una deglia così, gattiva come l'è, e il risultato è finito. Forse andate a dare da poi un tetto. Allora guardate qui se volete. C'è la caccia stupiccio qui. Allora vittiate appena così, guardate così. e dopo normalmente deve eseguidare. E dopo qua c'è tutto il lavoro di smusso a fare per metterla in forma. Di a deglia che vi comanda. Un po' di amica biazza. Di a questo agostì e mette l'agostì. Un di amica così che si fa. Qui c'è la sua biazza, c'è la sua biazza. Qui c'è la sua biazza. che aveva un po' di amica. Che aveva un po' di amica. E che aveva un po' di amica. E che aveva un po' di amica. Qui si trovano quelle deglie corsa. E ciò che faccia l'arte è un mestiere di taglio. Ma oggi, taglia negli anni da un mondo sano. Per Pier Sanguinetti, se vedre dal trono. Erebbene un'amica. Aveva sobbiazza lante i detti. I gui. Si perde una particolarità e velezza di i paesi. Questa è la tedia strangiera. Tedia meccanica. Tutta la stessa. Calibrata. Vedete? Non sono la stessa taglia. Ma hanno tutto la stessa spessore. Per suddittà, giurerebbe che le Repubblica aprino nuove carriere. Deglie che per ora ne ferma che una sola a Norizza. Per Prugia e Sibitra. E cambia la logica d'oggi. Bene, d'altro. L'abbiamo qui. L'abbiamo sotto i bei. E andiamo a cercare. Ma è incredibile. E come dire? Se non c'è un prodotto a 3-8 valori aggiunti. Non da che i detti che l'hanno rimpiazzato a Deglia per l'Amplice. C'è un mercato massimo importante. Pier Sanguinetti è cittadio da bui 50 anni. Tedia ne ha manigliato Barretti. Per ello, Sibitra e Sibitra devono essere messi in valore come un mistero che l'ha imparato più per passione che per altri affari. All'inizio, quando abbiamo cominciato a lavorare, il mio maestro mi ha detto quando tu metti il ronde non guarda mai il sole veloce in capimonte. Il mio maestro è un mercato. Nicola ha imparato l'arte dell'Italia e degli antichi. Per ello, il suo mestiere non deve perdere e i giorni devono andare a imparare. a Deglia. a Deglia, a Deglia, a Deglia, a Deglia, a Deglia. a Deglia, a Deglia, a Deglia, a Deglia, a Deglia. Allora oggi è formazione soppoghe per far cittadio tradizionale. Sibassonadi sperano a salvezza la trasmissione di Sousa Befa che disegna i nostri paesi dopo i secoli e secoli.